E se non sarà Fellini, te te siga o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà Sarà, 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 sarà per te Io purtroppo non sono un cantante, ho sempre amato cantare, ma ci tenevo ad omaggiare con tutto me stesso, Francesco Nuti. Che ieri se n'è andato. La sfortuna di quest'uomo è davvero incredibile, penso che sia veramente indescrivibile. Nonostante tutto quello che gli è successo negli ultimi vent'anni, nonostante tutte le situazioni che in qualche modo l'hanno condannato, in maniera in realtà molto graduale purtroppo. Perché io credo che tante volte qualcuno l'avrebbe potuto aiutare, forse è stato appunto molto sfortunato. Alcune cose sarebbero potute andare diversamente, però non sono qui per giudicare perché dall'esterno non posso assolutamente sapere come siano andate appunto le cose. Negli ultimi vent'anni della vita, più che della carriera, che di fatto è terminata nel 2006, di Francesco Nuti. Che se n'è andato ieri, lo stesso giorno di Silvio Berlusconi. Naturalmente, muore Berlusconi, l'opinione pubblica viene scossa dalla morte di Berlusconi, tutti parlano di Berlusconi, il mondo intero ricorda nel bene e nel male Silvio Berlusconi ed è giusto così. Non sono ingenuo e non sono qui per criticare questo aspetto, però sicuramente è pazzesco che neanche nel momento della morte Francesco Nuti abbia potuto avere quello che merita. Cioè, riconoscimenti, tributi, tutte cose che ha ricevuto ma non quanto avrebbe meritato. Un po' come è stato in carriera perché ha avuto grande successo, prima con i Gian Cattivi, quindi Alessandro Benvenuti e Tina Cenci in particolare. Poi, da solista, con i suoi film, da regista, grande attore toscano, che ha rappresentato la toscanità forse come nessun altro. Ci metto Roberto Benigni, poi al suo livello non ci è arrivato nessuno. Grande successo sotto tanti aspetti, anche come cantante. Vi ho intonato Sarà per te nei limiti delle mie possibilità ad inizio video. Come artista veramente poliedrico, duttile, un artista a 360 gradi. Poi a un certo punto sono successe delle cose nella sua vita che si sono ripercosse anche nella sua carriera. E noi non le conosciamo nello specifico, non possiamo sapere quanta colpa abbiano avuto i colleghi, quante responsabilità abbiano avuto i cosiddetti amici, i presunti amici, che forse non gli sono stati vicino nel modo giusto. Non sappiamo poi, nel momento in cui ha cominciato a soffrire di determinate malattie, determinati disturbi, ha avuto la depressione, ha avuto un sacco di problemi, che cosa sia successo effettivamente, perché non si sia riuscito in qualche modo a salvarlo, a farlo stare meglio, quantomeno, a ridargli una vita serena, quantomeno. Però, ripeto, oggi non parliamo di questo perché non possiamo, non è la sede giusta e non sarebbe neanche corretto nei confronti proprio di Francesco Nuti, che oggi voglio ricordare in maniera, come sempre, molto semplice e spontanea, per l'artista che è stato, Francesco Nuti, Francesco che ci ha divertito, ci ha commosso, ci ha emozionato, Francesco ha rivoluzionato. Che cosa ha rivoluzionato? Il modo di fare spettacolo. Ha rivoluzionato il cinema, il teatro, la televisione, ha rivoluzionato in generale il concetto di artista in Italia. L'ha fatto insieme a tanti colleghi perché poi in quegli anni di grandi artisti ne abbiamo avuti. E come la generazione dei nati negli anni 50 è una generazione incredibile per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e se penso in particolare ai suoi colleghi stretti, che ovviamente l'hanno ricordato in maniera importante, come Carlo Verdone, chi non c'è più come Massimo Troisi, un altro grande toscano come Roberto Benigni. Insomma, la generazione era tanta tanta roba, come detto anche i Gian Cattivi e quindi tutti i suoi compagni di viaggio che soprattutto inizialmente gli hanno permesso di diventare Francesco Nuti che poi da solista probabilmente ha dato il meglio di sé. I nostalgici magari preferiranno le prime cose. Io credo che Francesco Nuti, regista, attore protagonista, sceneggiatore, insieme anche a Giovanni Veronesi che ha scritto i suoi film e che io ho avuto la fortuna di intervistare sul mio canale e tra l'altro nell'intervista che io e Giorgio gli abbiamo fatto più o meno due anni fa Veronesi ha ricordato Nuti che già stava molto male e ha parlato dell'amico, oltre che del collega, dell'artista. Quindi ho questa grande fortuna, ho questo privilegio perché sul mio canale, in una mia semplice intervista, c'è anche una bella testimonianza di Nuti quando non faceva comodo, perché parlarne oggi è facile parlarne prima, quando era un po' caduto ingiustamente nel dimenticatoio quando magari l'opinione pubblica Nuti lo ricordava soltanto ogni tanto al compleanno, qualche anniversario quello è molto diverso e penso che sia molto importante perché gli artisti non si possono ricordare soltanto dopo la morte per quanto almeno Francesco avrebbe meritato un altro giorno, un'altra occasione un tributo dedicato esclusivamente a lui, invece no muore Berlusconi, poi muore anche Nuti quindi ovviamente, diciamo, un'aggiunta un giorno da ricordare anche per questo ed è una cosa che io veramente non riesco ad accettare però ripeto, non me la prendo con nessuno me la posso prendere con il fato, con il destino però non è colpa di nessuno, almeno in questo caso non è colpa di nessuno Francesco non ha avuto quello che meritava ma stavolta non è colpa di nessuno almeno stavolta poi le altre situazioni, come detto, non le commento ho letto qualche polemica sui social qualche suo collega, qualche suo presunto amico attaccato, accusato di non essere stato sempre presente nella sua vita di essere tornato a parlare soltanto adesso che è più semplice ma non sta a noi giudicare quindi ragazzi evitiamo anche le accuse, gli insulti pensiamo soltanto a quello che Francesco Nuti è stato e pensiamo che magari adesso abbia smesso di soffrire perché sicuramente Francesco non stava bene era anche ricoverato nell'ospedale di Roma in cui è morto anche se a me piace pensare che se ne sia andato nella sua Firenze perché Francesco Nuti è Firenze, Francesco Nuti è la Toscana, la Toscanità quindi ho questa idea in testa ma indubbiamente è un dato tecnico se ne è andato a Roma dove era ricoverato già da tempo in ospedale quindi voglio pensare che se ne sia andato e abbia smesso di soffrire quindi che la sua morte, almeno per quanto riguarda le sue condizioni lo abbia fatto stare meglio non so cosa ci sia lassù Tutta colpa del paradiso è il titolo di un suo film che ho rivisto proprio ieri sera mi sono sinceramente commosso perché tutta la sensibilità, il tatto, la raffinatezza, la delicatezza di Francesco Nuti sono assolutamente riassunti e sintetizzati in quel suo bellissimo film del 1985 con Ornella Muti probabilmente sarà lì in paradiso se esiste sarà in paradiso io sono credente per cui voglio pensare che Nuti sia lì in paradiso lui che assolutamente se lo merita e che come detto negli ultimi vent'anni ha veramente patito qualcosa che anche a livello artistico oltre che umano non avrebbe mai meritato ieri ho rivisto la sua ultima intervista con Giuseppe Cruciani alla Zanzara nel maggio se non erro del 2006 un'intervista in cui purtroppo Nuti ovviamente soltanto via radio appariva molto molto in difficoltà in uno stato di alterazione molto molto difficile anche da gestire penso che Cruciani abbia gestito bene quell'intervista fino alla fine poi nella parte finale si è perso ha deciso di chiuderla in maniera esplicita dicendogli Francesco forse non è il caso di continuare ecco io non l'avrei gestito così avrei preferito un Cruciani più lucido magari avrebbe potuto sintetizzare le ultime domande e concludere però l'intervista senza mortificare un Francesco Nuti che stava evidentemente male ma stare male è anche un diritto per cui non è possibile trattare in questo modo una persona che appunto lo sta bene e sta attraversando dopo aver già attraversato altri momenti difficili il momento forse cruciale della sua malattia e se ne è andato ieri poi a 68 anni ma l'agonia parte da tempo addietro quindi non è una morte purtroppo che ci colpisce come effetto sorpresa è una morte che ci colpisce perché lo sapevamo l'avevamo metabolizzato visto ovviamente come stava però ci fa tanto tanto male e ci fa male perché se ne va un grande artista se ne va un attore vero se ne va un comico vero se ne va un grande regista e sceneggiatore del cinema italiano se ne va un cantante se ne va un uomo estremamente sensibile è che con la sua arte ha sempre mostrato tutta la sua sensibilità il suo buon cuore forse a volte troppo buono tutto il suo amore credo davvero che la sua sensibilità sia specchio della sua arte Francesco Uomo Francesco Nuti artista siamo assolutamente fortunati siamo stati siamo e saremo ancora fortunati ad avere la possibilità di vedere e rivedere i suoi film i suoi spettacoli di ascoltare le sue canzoni perché uno come Nuti non lo so se rinascerà lo so è una frase che diciamo spesso quando se ne va qualcuno non so se poi tornerà qualcuno del suo livello ma parlo proprio come detto del suo cuore della sua anima della sua grande sensibilità ecco un Francesco Nuti in questo senso dubito che potrà tornare nasceranno magari artisti bravi come lui ma artisti veri autentici e di grandissimo cuore come Francesco Nuti non so sinceramente se torneranno sono veramente scosso colpito dispiaciuto anche se ripeto spero che adesso Francesco abbia smesso di soffrire spero che lì in paradiso abbia trovato un bel posto un posto migliore un grandissimo abbraccio a Ginevra Nuti la sua figliola a cui dedicò sarà per te soprattutto nella sua ultima esibizione più che apparizione perché poi l'abbiamo rivisto anche se in brutte condizioni insomma negli ultimi anni da Giorgio Panariello in televisione l'ha cantata l'ha interpretata la dedicò a quella bambina alta un metro e zero sei che poi gli è stata vicino e che quando ha compiuto 18 anni la prima cosa che ha fatto non è stata forse comprarsi una macchina oppure spendere soldi con la carta di credito o approfittare di quello che i 18 anni ti consentono la prima cosa che ha fatto è stata chiedere l'affidamento esclusivo del papà Francesco penso che questo gesto sia veramente meraviglioso e che valga molto di più di tutte le parole di noi esterni ma anche di chi lo conosceva tutte le parole che sono state dette in queste ore in questi anni passati e che verranno dette Ginevra ha fatto più di tutti e quindi sicuramente sì Ginevra sarà per te tu su tutti ovviamente tutti i familiari tutti gli amici veri come il grande Giovanni Veronesi che gli sono stati sempre vicini e che ricorderanno sempre come solo loro possono fare il grande Francesco Nuti ciao Francesco grazie di tutto quello che ci hai regalato noi non ti abbiamo dimenticato in questi anni nemmeno noi grandi e veri sostenitori amanti del bel cinema dello spettacolo dell'arte e sicuramente non ti dimenticheremo poco ma sicuro grande 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 e viva sempre Francesco Nuti grazie a tutti